Condanno le violenze e gli atti di intemperanza, ma non è un'organizzazione terroristica quella dei coloni. È una scelta che non condivido, quella di usare violenza e di aggredire la popolazione palestinese che vive là, ma non possiamo equiparare Hamas ai coloni ebrei che vivono là. Sono due cose ben diverse.